Ciao, sono Vincenzo Coccola e oggi vi preparerò un cocktail all day, un cocktail a basso contenuto alcoolemico, quindi molto leggero e che si può bere durante tutta la giornata. Intanto andiamo a prendere un bicchiere e andiamo a versare direttamente al suo interno del verbo rosso, 6 CL circa, aggiungiamo una parte dolce data dalla ligurizia e zaino, 3 CL direttamente al suo interno, andiamo ad aggiungere 3 CL di sciroppo e di caffè, una piccola muscolata, prima di aggiungere il cance, andiamo a realizzare grazie all'albumina, al bianco d'uovo, una spuma che darà texture al nostro potere, questa spuma l'abbiamo aromatizzata con della ligurizia e zaino, con l'aiuto di un bar spoon andiamo a versare nell'ultimo. Ho ottenuto questo effetto cremoso, andiamo ad inserire una cannuccia e il garnish e un fiore di orchidea. Per finito, stop and relax. Enjoy! Grazie a tutti!